Ieri è uscita la tier list delle icon baby e porca miseria ha fatto più danni della grandine ragazzi Chi si è triggerato perché Ronaldo non era stato messo tra i top Chi perché Butraghenio non è stato messo allo stesso livello di R9 Prime Comunque ragazzi, lo dico per l'ennesima volta a inizio video Si tratta comunque di considerazioni personali Unite ovviamente a quelle che sono valutazioni oggettive su quelli che sono determinati parametri Io do tanta importanza quest'anno alle stelle skill Do tanta importanza come al solito a piede debole Quindi quelli sono i parametri principali sulle quali vado a giocare Non metto in dubbio che Socrates magari voi l'avete utilizzato Per me in un 4-4-2 per esempio non può fare mai il CC Vista la sua lentezza eccetera eccetera Visto il fatto che non difende Quindi io non metto in dubbio che magari voi vi troviate bene Però queste sono le mie valutazioni Fatta questa premessa spero di fare meno danni Visto che nel video precedente croppando le immagini Mi sono anche accorto che sono sparite tutte le icon nuove Perché erano poste in coda e non ci sono più Stavolta ci sono Ci andiamo a vedere invece la tier list delle icon mid Così completiamo questo pacchetto di icon baby e mid Che sono fondamentalmente le icon che maggiormente avete tra le mani Grazie all'apertura dei pacchetti dagli swap Quindi senza perderci in chiacchiere Andiamo questa volta a vedere immediatamente le icon mid top Passando sulla schermata E insomma diciamo Ho anche zoomato l'immagine in maniera tale che non vi triggerate Diciamo che qua non ci sono grosse sorprese Sono suddivise tra attaccanti, esterni, trequartisti, centrocampisti, difensori ed eventuali portieri Chiaramente al primo posto abbiamo insomma L'attaccante al momento più forte del gioco Il buon R9 5-5 diciamo Un mostro Secondo posto occupato dal buon Eto' Che appunto nel video precedente mancava Eto' che è davvero un bel giocatore Può fare tranquillamente la punta Può fare tranquillamente l'esterno Eviterei di fargli fare il CEC onestamente Può fare anche il CES o il Cerdino Un 4-2-3-1 Bel giocatore anche Samuel Pelé, altro fuoriclasse assoluto di questo gruppone Uno dei giocatori che è tanto utilizzato anche a livello competitivo 5 di skill 4 di piede debole Può essere utilizzato da seconda punta Può essere utilizzato da trequartista Può essere utilizzato volendo anche da CES o da COD Apriti cielo Dalglish Mi hai messo Dalglish 3 top e non R9 baby Eh sì perché Dalglish ha 5 di piede debole Quindi ha un bel quid in più rispetto a un R9 baby Per quanto riguarda il video precedente Quindi anche Dalglish mid per me è un assoluto top Qualora ripeto Voi lo andate a sbustare da questi pacchetti Quindi si presuppone che stiamo parlando di tutte carte non scambiabili Che voi avete nel club E che non potete buttare in nessun modo Se non eventuali SBC E per quello c'è poi una categoria a parte Quindi il bold Dalglish per me è un attaccante top Anche se dalla mia esperienza Il baby è il più forte Visto che è più agile, più reattivo, eccetera Eusebio anche qui Carta clamorosa Può fare tranquillamente la punta Meno il COS e il COD Visto che è un po' piccolino Non ha questa ampiezza nei movimenti E in particolare Quest'anno risente del fatto di non avere la quinta skill Chissà se dopo la patch tornerà più utile Del Piero Anche in questo caso Giocatore clamoroso 5 di piede debole 4 di skill Fa benissimo il trequartista Lo si può anche utilizzare da seconda punta In particolare tiri a giro Meravigliosi da parte di Alex Spennellate su punizioni Non ve lo dico proprio Cruif 5-5 non necessita di altre presentazioni Lo utilizzerei da COC e non da punta Perché ha poca potenza tiro Quindi spesso e volentieri non conclude l'azione bene Abbiamo poi una carta nuova Che è il buon Il buon cantonà Questo qui è veramente top Io però lo andrei a utilizzare In posizione di esterno Il trequartista no Perché è un po' troppo grosso Magari anche da Seconda punta Volendo alla Cristiano Ronaldo Anche se vi ripeto È un po' più pesante in game Ronaldinho Per la gioia di Olli Giocatore anche qui clamoroso Da usare trequartista Ma anche da COS o da COD Il buon Zidane Da usare CC O anche CDC In un 4-2-3-1 Perché no anche il COC Anche se non è proprio velocissimo Magari per un COC Abbiamo poi Garrincia e Best Che sull'esterno sono due fuoriclasse clamorosi E tra i due Io preferisco Garrincia Gullit Insomma Centrocampista totale Più forte del gioco Lo potete mettere anche in porta O a farvi fare il caffè la mattina Avvierà Stessa cosa Forse un gradino sotto Gullit Ma recupera qualcosa in termini di qualità prezzo Idengem E Mataus Che per me è veramente un bel giocatorino Diciamo che è una sorta di cantè più schillato E più preciso nei passaggi E che finalizza anche meglio Perché all'altezza bene o male siamo lì E poi abbiamo un terzetto di difensori Ovvero Maldini Carlo Salberto E Blanc Blanc io l'ho messo tra i top Perché quella velocità è abbastanza fake Mi ci sono sempre trovato bene Mentre insomma Maldini e Carlo Salberto Non necessitano di altre presentazioni E Carlo Salberto può essere anche switchato da terzino A difensore centrale Quindi tanta tanta roba Quindi archiviate le icon top Passiamo alla categoria successiva Ovvero quelle delle ottime E già qua so che inizieranno i problemi Perché magari mentre le top sono quelle meno opinabili Da quella delle Dalla categoria delle ottime si creano i problemi Quindi direi di andare a fare Subito un salto sulle ottime E come potete vedere Il primo giocatore che troviamo È il buon Ferenc Puskas A dispetto del suo 3 di piede debole Che magari me l'avrebbe fatto mettere Nelle usabili e non nelle ottime E qui parliamo di una carta Che secondo me non può essere ignorata Qualora appunto La si abbia Non scambiabile Stiamo parlando sempre di carte Che si presuppone voi abbiate Quindi non dovete comprare E lo si può tranquillamente utilizzare Lo si può utilizzare da seconda punta Da COC Volendo anche da COS O da COD Quindi soffre un po' il fatto Di avere 3 di piede debole Quindi magari siete un po' prevedibili Quando vi dovete girare e calciare Però è una bella carta Stesso discorso equivalente Vale per Maradona Che 5 di skill Ma purtroppo ha il deficit E il piede debole Peccato perché ha anche un bel tiro Al giro col sinistro Lo utilizzerei anche in questo caso Da COC Volendo anche da seconda punta Da esterno un po' meno Il buon Rikikaka Nella sua versione 89 Che per me può essere tranquillamente utilizzato Da COS o da COD Bella carta questa qui Un'altra bella idem gem E questo COC C'è uscita anche la versione prime Tra le SBC Che se pagate poco Io vi consiglio Perché è comunque un giocatore Che ha 5 di skill Molto molto agile Ed è molto sottovalutato Certo Questo qua Magari è il più lento di tutti Però anche questo qua È un'ottima È un'ottima carta Abbiamo poi Il buon Gianfranco Zola Che va a fare compagnia Al Baby Anche se secondo me Il Baby rimane il migliore Anche qui Un giocatore che andrei a utilizzare Prettamente da COC Abbiamo un bel Poker Anzi Un pokerissimo Di centrocampisti Con Essien Seidorf Desely Petit E Lam Tutti quanti Molto molto validi Di Essien Tra il Baby E il Mid Preferisco il Baby Ma comunque questo qua è valido Seidorf Centrocampista totale Che magari difende Un po' peggio Di come imposta Che comunque però Dice la sua Desely Che può essere switchato Anche a DC magari Il buon Petit Che magari è il meno veloce Di tutti Ma che comunque può dire la sua Stessa cosa Lam 82 di velocità Comunque è un ottimo giocatore Da mediana Abbiamo poi Il comparto difensivo Dove abbiamo Ferdinand Che comunque È un ottimo difensore Anche se il migliore Anche se il migliore per me È il Baby Barra il Prime Abbiamo poi Vidic Che piazzo comunque Tra le ottime Perché è un buon difensore Nonostante A me non faccia impazzire Il fatto che abbia 70 di velocità In un meta Dove si abusa Di filtranti Il buon Campbell Che rispetto Anche lui Al Baby Perde qualcosina In velocità Ma è molto molto valido Abbiamo poi Zanetti Carlos Zanbrotta E Cole Quindi tre terzini sinistri E un terzino destro Anche qua Zanetti Magari Non è proprio Il più veloce Dei terzini Però può essere anche Switchato in mediana Carlos Zanbrotta E Cole Invece a sinistra Dicono la loro In un reparto Dove comunque Anche tra quelle che sono Le carte non hai Con c'è tanta abbondanza Basti pensare A un Mendy A un Teo Hernandez Eccetera eccetera Chi più ne ha Più ne metta Però Parliamo sempre Ribadisco di carte Che si presuppone Che voi abbiate Quindi non le dovete andare A comprare Se le avete È un peccato non usare Dalla categoria delle ottime Passiamo alle categorie Delle utilizzabili Ovvero quelle delle me Ossia se ce le avete Usatele proprio Perché ce le avete Ma non è che Insomma Mi facciano impazzire Più di tanto Tra le utilizzabili Al primo posto C'è sto benedetto Butraghenio Voi forse Vi dimenticate Che l'anno scorso Il mio attacco titolare Era Dalglish Butraghenio Anche nei maggiori tornei E l'ho portato Anche al mondiale Per club di Milano Dalglish Io in particolare E Butraghenio Dalglish Mi hanno fatto qualificare Al rappresentativa Della nazionale italiana Quindi Sono due giocatori Che io amo Alla follia Ma Butraghenio Quest'anno Con tre di piede debole Non può circolare Non può circolare Perché fare almeno Un tacco tacco Fatto bene Con l'animazione Del quattro skill È fondamentale Certo Ha cinque di piede debole Quindi lo possiamo utilizzare Lo mettiamo Nella categoria Delle usabili Però Capite che Non mi sento Di metterlo Né tra le ottime Né tra le top Per i motivi Sopracitati Raul 4-4 Questo qua Secondo me Inizia a diventare Interessante Lo consiglio anche Come icon ATT Cheap price Torres Raga Per una questione Affettiva La metto Nelle utilizzabili Anche se Non è propriamente L'agilità Fatta persona Secondo me Anche con la velocità Un po' fake Però Non me la sento Di escluderlo Da questo gruppone Così non me la sento Di escludere Il buon Cevchenko Il buon Zucker Che sono comunque Due attaccanti Da 4-4 L'angelo Biondo Hernandez In questa versione Che almeno Nonostante abbia Il tre piede debole Si può utilizzare Secondo me Da esterno Visto Che è abbastanza Rapido Stessa cosa Crespo Non mi sento Di escluderlo Perché comunque Un attaccante 4-4 Che ho provato Io utilizzavo Raul e Crespo Su FIFA 19 Nel mio rombo Quindi sono buoni Attaccanti Ve lo posso garantire Poi abbiamo Il buon Luis Figo Il buon Luis Figo Da esterno Può essere utilizzato Anche volendo Da COC O da seconda punta L'Houdrup Scusatemi ragazzi È finito per sbaglio In questa categoria Quindi fate finta Che non c'è E abbiamo Il buon Barnes Che è un esterno 4-4 Con 88 Di velocità Vi dirò Si può anche utilizzare Così come Henry Che è una sorta Di Cristiano Ronaldo Anche lui Da usare in versione COS COD E esterno destro E esterno sinistro Non da punta Perché è un po' Un tronco Stessa cosa Il buon Stoichkov Per esperienza personale Da quello che ho visto L'ho visto anche utilizzato Da Ciccino e Rombo Quindi può fare Oltre all'esterno Anche il Ciccino e Rombo Eviterà il ruolo di punta Visto che è comunque A 3 di piede debole Per quanto riguarda Poi Nedved Questa versione qui La consiglio Da esterno O anche da 3 quartista Visto che è comunque A 5 di piede debole Stop Bear Camp Anche non è malissimo Da Ciccino O da 3 quartista Socrates Un'altra carta Che ha fatto uno scalpore Incredibile Nel video precedente Che in questa versione qua Ve l'ho messa Per non farvi triggerare Però onestamente Io non lo andrei a mettere Né come Cicc nel 4-4-2 Né come Cdc nel 4-2-3-1 Come Coc È poco agile E Diciamo che non è manco Così veloce Quindi io ve l'ho messo Se proprio lo volete usare C o C Si può provare Ma comunque parliamo Di una carta molto macchinosa Vi ho piazzato poi Agi e Baggio Tra le utilizzabili Perché Agi Come vi ho detto in precedenza Non è malissimo Spesso e volentieri È tanto deriso Ma qualora vi esce Si può provare Stessa cosa anche Baggio Con questo capello molto esotico Sembra che c'è una parrucca in testa A centrocampo abbiamo invece Ballack Che nella versione mid Risulta Molto meglio Rispetto a quella baby Chiaramente io l'ho utilizzato Anche lui su FIFA 19 E devo dire che è un buon giocatore Vi ho messo anche Schweinsteiger Perché nonostante il 68 di velocità È un Gullit Gang Vuol dire che ha tutte le stats Sopra l'80 Quindi Io vi ho detto mille volte Che gli stili intesano Alla fine non è che bustano Chissà quanto le carte Però Parliamo comunque di una carta Che magari Piazzandogli un'ombra Un minimo di velocità in più La acquisisce È perché non dargli una chance Stessa cosa La bruchita veron Che ha tutte le stats Al posto giusto E ha solamente Quel piccolo problema Di velocità Però c'ha anche dei bie piedi Quindi da CC O da CDC Ci sta bene Sia nel 4-4-2 Che nel 4-2-3-1 Stessa cosa Macherele Che è una sorta Diciamo di Kanté Quindi anche lui Non male E vi ho messo poi Cannavaro Nella versione Mid Tra i difensori Perché comunque C'ha 76 di velocità Anche se è un po' piccolotto Io non è che lo preferisco È uscita anche la versione Prime Sbloccabile Devo dire L'ho testato Con l'emprestito È anche abbastanza aggressivo Recupera bene i palloni Certo Ogni tanto Sul lungo Si sente che è piccolino Nonostante ha comunque Tante velocità Con la gamba Perde un po' di metri Però Ci può stare E poi vi ho messo Wanderstache, Michael e Yashin Oltre a Cech Che ho visto che sono portieri Come vi dico sempre Il portiere È una delle cose più personali del gioco E si può sempre provare Andiamo a concludere Con le pippe E le SBC SBC ovvero giocatori Che proprio Buttatele via Pippe Quelli che sembrano avere Anche delle stats decenti Ma hanno mille problemi Per quanto riguarda Gli attaccanti Abbiamo Shearer Clivert, Inzaghi, Larson Vieri, Close Treseguet, Sanchez Drogba, Bright Lineker Van Nisterroi E Owen Giocatori che Hanno tutti quanti Problemoni del tipo 3 di skill 3 di piede debole Non si girano Tronchi enormi fisicamente Miliardo di forza Quindi Lì andrei A evitare Tutti quanti Proprio A occhi chiusi Rivaldo Pace all'anima sua 2 di piede debole Si commenta da solo Poi passiamo a Xavi Pirlo Gerrard Beckham Tutti i giocatori Insomma che nella realtà Sono stati dei Clamorosi interpreti Del centrocampo Ma che su FIFA Sono stati demoliti A livello statistico Quindi sono totalmente Inutilizzabili Stesso discorso Per Rui Costa Deco Litman E Nakata Che insomma Non hanno Le statistiche giuste Per poter fare il COC Nakata in particolare Nella versione mid È più scarso Nella versione baby Secondo me Abbiamo poi Marco Sopramarte Che da esterno Io non lo preferisco Per me è una pippa È una pippa Perché tre di skill Sull'esterno Non puoi circolare Sull'esterno Almeno una crocchetta Fatta bene Un tacco tacco Animato bene Va fatto Va fatto Quindi per me È una pippa Non lo andrei a utilizzare Piuttosto ci metto Rashford Che costa 50k Gattuso Non me ne voglia Ma non è questo Grande interprete Del centrocampo Guardiola Ve l'ho piazzato qui Perché rispetto Alla sua versione baby È molto più statico Rijkaard Koeman E Puyolo Sono tre difensori Che insomma Hanno della velocità Molto fake Sono più lenti Di quello che traspare Tranne Puyolo Che è proprio lento frasico E che insomma Non mi sento Di andare A inserire Da nessuna parte Per quanto riguarda Quelli delle SBC Sono Van Basten Rush Richel McGiggs Pires Lampard King Scholes Baresi Hierro Nesta E Bobby Moore Quindi Giocatori Hacci Proprio a 360 gradi Che non hanno Alcuna Belleità Di poter essere Insomma Inseriti in qualsiasi In qualsiasi squadra Ne da sub Ne da niente Quindi Raga Per quanto riguarda Questa Ulteriore tier list Concludiamo questo pacchetto Di icon mid Come dicevo Per quanto riguarda Quelli che sono I pacchi degli swap Che ci hanno riempito Di queste carte Spero che questo video Vi sia Vi sia piaciuto Lasciatemi un like Un commento Si spera che non ho fatto Altri danni Stavolta le icon ci sono tutte Spero di avervi argomentato Bene come prima Spero che mi capiate Per favore Non ve la prendete Ci tengo a dire Che sono opinioni personali Rispetto anche le vostre Ovviamente Questo è come la penso io Perciò ci sono i commenti E perciò mi fa piacere Sentire la vostra opinione Vi ricordo anche Di iscrivervi al canale Perché cresciamo una bomba E sono felice Trovate in descrizione Tutte le info sulle live giornaliere Sulla piattaforma Viola E a me non resta altro Che salutarvi ragazzoni Ciao